Buongiorno a tutti! Oggi ci troviamo a Trani, nei pressi della chiesa della Madonna di Fatima, in una zona residenziale prestigiosa. Questa potrebbe essere l'opportunità che fa per voi. Disponiamo di una recente villa, su quattro livelli, in ottime condizioni interne. Al piano terra ci accoglie un ingresso. Proseguendo troviamo un doppio salone a vista per accogliere amici e parenti. Continuando giungiamo in una cucina abitabile e bagno. All'esterno ci accoglie un terrazzo a livello. Salendo le scale entriamo nella zona notte, composta da due ampie camere da letto per il massimo comfort. Un bagno padronale e ancora un grande balcone. Al secondo piano accediamo in un ampio open space, ideale come sala hobby o studio. Ulteriore bagno per la vostra comodità. In ultimo troviamo una spaziosa tavernetta con servizi aggiuntivi, perfetta per intrattenere gli ospiti o creare la tua zona di relax. Completano la proprietà due comodi box auto. Tutta la villa è circondata da un giardino, ideale per chi ama la natura. Questa villa è ideale per chi desidera uno spazio confortevole e funzionale. Affrettatevi, prenotate il vostro appuntamento. Alla prossima, ciao!